erano amici fino a questa sera ok in 3, 2, 1, go non ho parole, non ho parole, non ho parole signore ogni volta è un'ammazzata che sfiora il corpo, le braccia, le gambe, la testa, il cervello altre parti che non vi dico del suo assistente sdraiato a terra ma lui va avanti come un maglio uvano, mai visto, mai visto signori Cavalji Singh sento gridare le signore del pubblico ma hanno ben ragione di farlo guardate, ah la caviglia, ah ce ne sono un paio d'altre 10 secondi in 3, 2, 1, stop signori siamo di fronte a guerrieri che veramente hanno qualcosa di sovraumano e questa sera ne hanno voluto dare dimostrazione davanti agli occhi di tutti con una scena di vero, di autentico terrore e non stiamo scherzando ora si deve sciacquare gli occhi come ci ha detto Frigatti, questa è una pratica che loro fanno sin da bambini in allenamento ma devo anche dire che visto farlo dal vivo è una cosa tremenda adesso si è ripreso Frigatti allora riprendiamoci tutti perché ho visto che anche il pubblico